Ci stiamo ritrovando finalmente fratelli, fratelli d'Italia. Abbiamo riscoperto anche la bontà del nostro sistema sanitario nazionale. Lo posso testimoniare per le cure che vengono somministrate ai miei suoceri ricoverati in gravi condizioni per coronavirus. Altrove, vi posso assicurare, non sarebbe stato così. Certo, c'è molto da imparare dalla lezione dell'emergenza legata al coronavirus. Lo sport deve essere soprattutto un momento di etica e di crescita di tutti, in particolare dei giovani. E quindi avanti, con forza e ottimismo, e ciascuno di noi faccia la propria parte per migliorare questo parese e per uscire da questa drammatica e maledetta pandemia.